Signora, è cominciato lo shopping di Natale? Sì, sì, è cominciato. La crisi si fa sentire o no? Si fa sentire, ma con un piccolo sforzo il Natale è il Natale. C'è la crisi o no? Sì, la voglia. Una crisi reale, non immaginaria? Reale, reale. Ci siamo quasi al Santo Natale, è iniziato lo shopping, come sta andando? Eh, insomma, non è come gli altri anni, si sente la crisi. Si sente, insomma, le persone chiedono, passano e vogliono spendere, insomma, molto poco, infatti. Noi qua siamo di Solofra, insomma, abbiamo portato il nostro prodotto, che è Made in Italy. Però, ovviamente, la crisi c'è. Hai stato ad acquistare i regali di Natale? Sì. Che cosa hai preso, lo possiamo sapere? Eh, il regalo di Natale per il ragazzo qua. Abbiamo preso un paio di scarpe. E tu hai cominciato? Sì, la stessa cosa. Quindi la crisi si fa sentire o no? No. I soldini ci sono? Eh, ci sono. Sto allo shopping di Natale? Sì, è iniziato, tutto bene. La crisi non si fa sentire? Ci sta la crisi, però cerchiamo di difenderci. Eh, io sono qui per caso perché sono genovese. Mi sono soffermata, ammirata, da questo presepe artigianale che è stupendo. Mi sono un'appassionata di presepe e quindi è veramente un piacere. Se la approfittiamo, visto che lei è di Genova, Genova Avellino, la crisi si sente anche da voi? Certo, si sente come. Le vendite sono calate. Il nostro salone nautico, l'ultimo ottobre, ha avuto un calo veramente pesante. E quindi sì, la sentiamo. Di spese ridotte anche per lei? Spese ridotte, sì, assolutamente. Meno male che c'è stata un poco di sole stamattina, anche se a quest'ora già si è ritirata. Spero che mantenga a sto tempo, se no qua è triste. Certo, qui c'è il passeggio, insomma, che gioca a vostro favore? Se non c'è passeggio, la gente non esce di casa, non compra e quindi... però non ci lamentiamo. Stiamo facendo un giro così, però non ancora a shopping. Ma la crisi si fa sentire? Per quanto mi riguarda faccio sempre shopping, forse a Natale quando lo faccio di meno probabilmente. Posso dire la mia? Certo. È una vita che siamo in crisi, l'Italia sta in crisi da 50 anni. Il tempo ci sta dando un po' fastidio, un po' noia, altrimenti comunque c'è il passeggio. In questa via abbiamo buone prospettive di vendita. Quanto sta influenzando sullo shopping la crisi? La crisi si sente. Noi speriamo in bene? Beh, insomma, ancora no. Qualche cosettina, diciamo, per l'addobbo né delizio, ma regali per... Ma i soldini ci sono? Ma i soldini quest'anno, bisogna stare un po' attenti. E lei ha cominciato? Sì, ho comprato a mia moglie un brillantino. Ma allora c'è tanti soldini da parte. Ingraziamo il signore, non ci possiamo lamentare. Quindi la crisi nella sua famiglia non si è sentita? A casa mia non si sente mai niente. Ha cominciato lo shopping natalizio, come sta andando? Sì, è incominciato e per il momento sta andando bene. Che prodotti offrite? Allora, noi siamo biste, siamo cinque ragazze che momentaneamente senza lavoro e quindi ci siamo creati noi questa opportunità lavorativa e per il momento va bene. Assolutamente no. Ma vi sta influenzando la crisi oppure non avete tempo? No, in genere non mi dedico molto allo shopping di Natale. Signora, lei? Non ho iniziato ma compro poco, giusto per i figli e la nipotina. La crisi si è fatta sentire? Eh beh, la crisi si sente come? Un po' dovunque. Ha cominciato lo shopping di Natale? Sì, già l'ho fatto. Ma la crisi si sente? Sì, sì perché io sono licenziato già. E quindi con i soldi che è rimasto io mi sono fatto un po' di spesa per Natale. Faccio regali salute a tutti i miei connazionali.